ben a tutti ragazzi bentorni sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabriel io birillo oggi andremo a far rivedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo il liquido di wender mega power tanta roba un liquidozzo veramente buono ora andiamo a fare la prova di questo liquido che è composto 20 ml di aroma ci va aggiunta la sua baseta che ci vuole la rincottina se la butta dentro e viene una boccetta la facciamo vedere da 60 ml di liquido 55 60 ml di liquido bello bello scuro mega power ora andiamo a fare la prova di questo liquido di wender vai gabry drippalo io l'ho già messo nella mia tenta ammit 2 coil bello pieno io sul profile ci si sente bene la roma l'anita vai gabry cazzo gabry ma non te l'ho detto che dovevi tirare piano è mega power questo qua senza maglia addirittura è mega power questo qua dentro c'è cosa ci senti gabby a questo liquidozzo vaniglia una cioccolato poi una meringa vanigliata con del cioccolato del marshmallow tanta roba tanta roba che voto ci dai questo liquidozzo che ha fatto web 8 e mezzo 9 valido da provare perfetto per l'inverno un bel cremoso tanta roba proprio buono tanta roba lo smaga perché all day lo perfumare tutto il giorno non è prepotente tanta roba allora ricordiamo lo potete trovare in tutti i negozi perché è libero questo qui noi l'abbiamo preso da svappo caffè marina di carara moliciara la spezia andatela a trovare dalla tavola dello svappo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare ciao